Alex Meret, il portiere del Napoli, ha parlato nel dettaglio del suo percorso al club e del nuovo portiere napoletano, diamo un'occhiata. Benvenuto fan, andiamo per un'altra news, ma prima lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Alex Meret ha affermato che l'estate è stata particolarmente impegnativa poiché non era sicuro del suo futuro al club e stava affrontando l'incertezza della sua posizione di portiere di prima scelta. Tuttavia, ha affermato di aver sempre cercato di lavorare sodo e concentrarsi sulla sua prestazione, senza preoccuparsi delle speculazioni e delle voci. Ha dichiarato di sapere di avere le capacità per essere il primo portiere del Napoli e ci ha sempre creduto, indipendentemente dalle circostanze. Ha anche elogiato il modo in cui il team sta lavorando insieme, affermando che ha contribuito alla loro fiducia e alle loro prestazioni. Quanto al probabile arrivo di Pierluigi Gollini al Napoli, Meret ha dichiarato di non avere ancora notizie ufficiali. Ha detto di conoscere bene Gollini, essendosi allenato a lungo con lui nella nazionale italiana, e ha elogiato le sue doti di portiere. E ha concluso ricordando che la competizione interna è salutare per la crescita e il miglioramento di qualsiasi giocatore e che sarebbe pronto ad affrontare la concorrenza. Allora fan, cosa ne pensi delle parole di Meret? Lascia il tuo commento qui sotto, è molto prezioso. Per continuare a ricevere le ultime notizie dal Napoli, iscriviti qui al canale, lascia un mi piace e attiva le notifiche.